Un ragazzo che viene da Bergamo, dei signori che vengono da Napoli, sono gli ultimi tifosi, gli ultimi tifosi, gli ultimi tifosi, chiedo scusa. Allora, il Presidente del Consiglio non è salito ancora qui al Quirinale, segno che il Consiglio dei Ministri straordinario è ancora in corso, mentre circa un quarto d'ora fa è tornato Napolitano in tutta fretta da Bologna dove era in visita ufficiale, segno questo che la situazione è molto delicata, forse è una delle più difficili da quando il governo Prodi si è insediato meno di un anno fa. Scusate, c'è il solito Paolini in onda. Come facevi? Un po' bentonati però, dai! Loro non partecipano a Sanremo. L'attualità, forse inattuale, come dicevamo, della letteratura, ma la letteratura e i libri possono essere anche utili. Non c'è bisogno assolutamente, siamo fuori dal qualunque elemento, come dire, curiosamente... Sì, buonasera. In pratica il Consiglio federale ha ratificato in pieno quanto detto ieri dalla Coaviso. Che cosa vuol dire? Aia, non si picchiano le persone, mi ha messo le mani addosso questo signore. Togliamo il collegamento per cortesia. Complimenti! Buonasera, da Piazza San Pietro si è conclusa poco più di mezz'ora fa la messa celebrata da Benedetto XVI in ricordo e suffraggio del suo...